Auto-applausi, auto-celebrazione da parte di Desirvo, amministratore delegato di Lega Serie A, per il funzionamento fenomenale del Piracy Shield. Paracy Shield Il problema con gli eventi sportivi rispetto alle trasmissioni pirata d'altro genere era soprattutto la tempistica, perché se inizio a trasmettere una partita di calcio e non c'è la tempistica, non c'è la possibilità di intervenire rapidamente, tutti quanti quelli che seguono la partita dallo streaming pirata se la guardano per bei 90 minuti, a quel punto interviene qualcuno, blocca il sito, ma è troppo tardi. Serviva quindi un'intensificazione e una velocizzazione delle procedure per consentire di essere efficaci. Come funziona il Paracy Shield? Quando uno dei produttori del segnale della trasmissione della partita, quindi chiunque detiene i diritti di trasmissione si accorge che c'è una trasmissione pirata, può inviare la segnalazione con il dominio del sito o l'indirizzo IP, allegando prove della trasmissione pirata, alla piattaforma del Paracy Shield, che interviene tempestivamente nel giro di pochi minuti, bloccando l'accesso a quel sito per il tramite di tutti gli operatori del settore, quindi tutti gli operatori di internet, che possono inibire l'accesso a quel sito per chiunque utente navighi dall'Italia. Infatti basta una VPN per aggirare il blocco, figurare come se si navigasse dall'estero e accedere comunque al sito pirata. Ma il problema riguarda anche gli indirizzi IP, perché nonostante lo sbandierato successo da parte di Desiervo su millemila siti che sono stati bloccati in poco tempo, purtroppo sono caduti nel blocco anche siti che non trasmettevano assolutamente nulla di pirata e che non erano minimamente illegali. Questo perché quando si interviene bloccando l'indirizzo IP si pesca un po' nel mucchio e si può danneggiare anche chi viene associato a quell'indirizzo IP, ma fa parte di un altro sito che pubblica tutt'altri contenuti. Desiervo su questo non ha negato il problema, però ha detto che si è intervenuti altrettanto in maniera assolerte per rimuovere questo ostacolo, quindi per riabilitare su richiesta quei siti che erano stati indebitamente bloccati, sì ma intanto sono stati bloccati. Non può essere un sistema che funziona, uno che per bloccare qualcuno che lo merita blocca anche qualcun altro che non lo merita. Immaginate di essere fermati dalla polizia per uno scambio di persona o perché vi trovavate nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Poi vi rilasciano e ne uscite puliti, ma intanto siete stati fermati dalla polizia. Senza contare che pare sia stato diffuso, e su questo ci sono ampie conferme per quanto poi arrivino delle smentite parziali come da parte di Desiervo, il codice sorgente in pratica, quindi il codice di come funziona il Parity Shield, e tra l'altro è venuto fuori oltre a qualche violazione di privacy, anche che fondamentalmente è una roba abbastanza banale, poco implementato, un codice tra virgolette basilare, quindi anche facile da aggirare. Senza entrare troppo nei dettagli e nel tecnico, sto Parity Shield non è che funziona alla perfezione. Ma forse il problema è proprio alla base, è proprio di principio, è il sistema che si vuole utilizzare. Se si vuole sconfiggere la pirateria, perché non si pensa magari di migliorare la qualità dei servizi abbassando i prezzi per l'utenza? O perché non si ampia la concorrenza consentendo agli utenti di scegliere quanto vogliono spendere per quale servizio effettivamente guardare? Costringere gli utenti a spendere 50€ al mese per Dazon, per poter guardare tutte le partite di Serie A, quando comunque non le guardano tutte e con una serie di servizi comunque non di livello eccelso e in alcuni casi di disservizi, in che modo può sconfiggere la pirateria? E anche se riesci a sconfiggere la pirateria, distruggi la passione per il calcio, perché molti non potendo più accedere allo streaming pirata non è che si abboneranno a Dazon solo perché altrimenti non possono guardare. Chi non se lo può permettere non se lo può permettere e chi non vuole farlo continua a non volerlo fare perché non ritiene che il servizio sia soddisfacente. Ma poi appunto il principio di andare a bannare preventivamente, anche se dopo l'inizio di una trasmissione privata, e per sempre tra l'altro degli indirizzi P e dei siti, è una misura repressiva, è una logica, è una filosofia repressiva. Invece di intervenire all'origine del problema, quindi scongiurando l'utilizzo delle piattaforme pirata, convincendo gli utenti a non utilizzare e dando loro dei motivi validi per non utilizzarli, si continua nella stessa situazione con gli utenti che quindi avranno tanti motivi per utilizzare comunque gli streaming pirata, salvo poi non trovarli perché vengono bloccati. Ma possono comunque proliferarne degli altri, nonostante questa piattaforma in effetti dovrebbe garantire che non si riesce a guardare per intero la partita. Perché interviene prima il privacy shield, almeno in teoria. Ma tutto questo a quale costo? Non si rischia forse di essere eccessivamente repressivi, appunto colpendo anche chi non c'entra nulla? Il problema è di politica criminale, diciamo così, quindi è un problema politico di cui pagano le conseguenze come al solito i singoli utenti. Perché questo è un sistema che ha il suo costo, che si aggiunge al costo del servizio di streaming legale. Ma il fatto di sostenere uno dei due costi dovrebbe far abbassare il costo di quell'altro. Invece il timore fondato è che più continuerà a funzionare, ad essere utilizzato il privacy shield, più aumenteranno i prezzi di Dazon e delle altre emittenti, garantite dalla cessazione della pirateria e quindi da un'ulteriore protezione, un ulteriore scudo, un vero e proprio shield anticoncorrenziale. Grazie. 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 Grazie.